Allora mi hanno detto vieni parla di cose che magari ti hanno resa, non lo so, un po' tesa nella vita, ti hanno messo un po' a disagio, posso parlare di adesso? C'ho un'ansia che fa paura. Allora voi direte guardate sta tipa che è venuta con gli occhiali e il cappellino, in realtà oggi ho perso due erei, mi volevo truccare come una figa fare i capelli di Cristo invece no, vabbè. Però così sembro molto una rapper, quindi ci sta. Allora io sono Marianna, in arte è Big Mama, faccio la rapper, ho 22 anni e vengo da San Michele di Serino che è un piccolissimo paese in provincia di Avellino. E dov'è Avellino? Nessuno risponde, va bene. Campania l'hanno detto. Allora diciamo la mia vita è sempre stata molto tesa, non è mai stata facile a partire dalla mia famiglia. Mia madre è particolarissima, una di quelle persone che ha sempre l'ansia di quelle signore che si mette gli occhiali in testa e passa tutto il giorno a dire dove sono i miei occhiali? Un po' quella cosa là. Noi siamo quattro figli, tre maschi e una femmina, confonde sempre i nomi, però immaginate che ogni tanto mi guarda e fa Giandomenico? E io dico ma forse hai sbagliato. Mio padre invece con un'ironia terribile che mi ha sempre uccisa durante tutta la mia vita, ovviamente sto scherzando, andavo a danza, papà sono andata a danza, l'hai trovato chiuso? Il mood era un po' questo a casa mia. E diciamo che mi piace dividere la mia vita in tre fasi, che sono la mia infanzia nel mio piccolo paese a San Michele di Serino, dove le mie problematiche sono iniziate a nascere a causa di una categoria sociale fortissima, le vecchie. Io non potevo, le signore anziane scusate, non potevo camminare per il paese che tutte le signore si sentivano in obbligo e in dovere di darmi dei consigli sulla mia salute. Marianna, bella, com'è stata tua mamma? Per un po' di dieta la potresti fare. E non potevo uscire di casa senza questi commenti. Poi la seconda fase della mia vita, mi sposto in città, vado ad Avellino per la scuola e inizio a capire che il problema non sono solo le signore anziane, ma sono soprattutto i nipoti delle signore anziane. Grassa, sei bruttissima, è nel pulma, è a scuola, è sul corso di Avellino, io non avevo mai pace. Per poi arrivare alla terza fase della mia vita, la mia preferita, per studiare mi sono trasferita a Milano e studio al Politecnico. A Milano ho imparato che alla fine nessuno se ne frega effettivamente di chi sono e come sono io. Cammino per la strada, mi rendo conto che le persone non mi guardano neanche, quindi sto molto tranquilla. Inizio a vestirmi più attillata, più scollata, inizio a capire di essere una figa della paura e qui entra la terza categoria, quella che mi fa più paura, gli uomini. Già. Bella, mi dai il tuo numero, vuoi venire da me stasera? Terribile, vabbè, chi è donna sa di che cosa sto parlando. E quindi immaginate di scendere di casa da quando avevo tipo tre anni e non avere mai pace. Questa è la mia vita. E uno direbbe vabbè, fino a qua non ci sta niente, invece no. Stiamo parlando di cose un po' tristi stasera, ci aggiungiamo la mia cosa triste. A venti anni, cioè due anni fa, inizio a non stare molto bene, inizio ad avere degli strani sintomi, non capisco di cosa si trattava, neanche i dottori capivano di cosa si trattasse. Fin quando ad agosto del 2020 ho finalmente avuto la mia diagnosi. Si trattava di un linfoma di Hodgkin, che è un tumore maligno del sangue. E quindi mi hanno detto Marianna, ti devi fare 12 chemioterapie e poi se vanno bene starai meglio. Sono qui, quindi sto meglio. già. Diciamo che non mi ritengo però una di quelle paladine, cioè io non ho mai affrontato bene la malattia per quanto mi riguarda. Quando ho finito le mie cure non ho mai pensato ah che bello, sono sopravvissuta, viva la vita. Penso di essere cambiata a tratti solo in peggio. E questa è anche la parte brutta di chi è malato, che non tutti la capiscono, non tutti riescono a farsene una ragione. Di 7 miliardi perché una ragazzina di 20 anni? Bella domanda. La mia ragione me la sono fatta con la musica, che mi ha sempre aiutato negli anni sia a combattere il bullismo, sia a combattere tutti quelli che erano i miei problemi. Quando sono stata male mi mettevo la parrucca e facevo i video, facevo finta di niente, non dicevo a nessuno di stare male. E nella mia testa quella era solo una parentesi. Per me non era una malattia che poi mi avrebbe accompagnato per tutta la vita. Per me era una parentesi che si era aperta e si doveva chiudere il prima possibile perché io dovevo tornare a Milano a cantare. Bellissimo. Ovviamente mi ha lasciato molti problemi, molte ansie soprattutto. Sono diventata una persona molto ansiosa, infatti non vi dico come sto adesso, anche se prima ve l'ho detto che non sto molto bene. L'ansia sociale è tantissima, l'ansia all'università è tantissima. Non vi dico lo show che faccio quando devo fare gli esami, tipo mamma ti prego spero di morire stanotte nel sonno. Mia mamma dice anche io facevo così, quindi vabbè ve l'ho detto che è pazza mia mamma. E poi anche l'ansia per i live, l'ansia per i discorsi, l'ansia quando fate in studio, l'ansia. Però secondo me è sempre importante prendere tutte le nostre debolezze, prendere tutto quello che ci è capitato di brutto e letteralmente farne una forza. Non sono paladina di questa cosa, già l'ho detto, non penso di essere stata bravissima a farlo, però quello che vi posso dire è che tante volte nella vita purtroppo la vita stessa non ci sorride, ci tiene il broncio, però è tutto merito nostro, dobbiamo fare tutto noi per far sì che questa cosa cambi. Non è facile, per me non è stato facile, non sarà facile, i miei problemi continuano, i vostri problemi continueranno, però l'importante è farsi sempre valere perché alla fine non c'è cosa più importante di noi stessi.